Lo spirito di Rivals accomuna Renato Curiangolana e Sambuceto nel secondo impegno stagionale di eccellenza. 4-2-3-1 per i padroni di casa guidati da Rachini, tre quarti composta da Cichella, Farias ed Amico, a supporto di La Selva, indisponibili Ruggeri, Miani e Milizia. Il Sambuceto di Mister Contini cambia tre pedine rispetto al K.O. con Lavezano inserendo Dedeo tra i pali, Sal e Rosati per Rossetti, Carrascosa e Caro, Fischia, Manuel Franchi di Teramo. La cronaca si apre dopo appena 5 minuti grazie all'inventiva di Emanuele Farias che si apre un corridoio centrale, dialoga con D'Amico ma nel momento decisivo spara altissimo. Il Sambuceto mette fuori la testa con la conclusione dell'ex D'Alonso che non impensierisce Pelusi. Partita viva, Sal impatta male da ottima posizione, capovolgimento di fronte e Renato Curiangolana in vantaggio. Lombardi approfitta di un rimpallo sulla tre quarti e si presenta a tu per tu con Dedeo, battendolo con un perfetto diagonale. Padroni di casa amanti del rischio, errore di comunicazione tra Fischi e Pelusi, fiato sospeso per alcuni istanti ma alla fine il portiere riesce a smanacciare via la sfera. Sul finale di tempo la punizione di Marfisi non è all'altezza della sua fama. Nella ripresa subito un colpo di scena, al dodicesimo Pelusi sbaglia malamente un disimpegno, Barrow gli ruba il pallone e lo deposita. In fondo al sacco, 1-1 e tutto di nuovo in discussione. D'Amico crossa profondo per Farias che fa la sponda ma nell'area piccola ci sono solamente maglie viola. Nel momento di maggiore spinta degli ospiti ecco che il cambio di Mr. Rachini fa la differenza. Tidiane sfrutta il suggerimento in profondità di La Selva e batte Dedeo. Può esultare il classe 2004 entrato in campo da meno di 30 secondi in un pomeriggio che sicuramente non dimenticherà. Partita tutt'altro che finita. Pelusi interviene prendendo la palla ma anche le gambe di Barrow. Il direttore di gara ci pensa qualche istante e assegna la massima punizione al Sambuceto. Dal replay pare netta l'ingenuità dell'estremo difensore. Dal dischetto si presenta Marfisi che si lascia ipnotizzare dal classe 2002. Croce è delizia per la squadra del presidente Spinelli. L'evento a favore carica l'arenato Curi Angolana che al novantesimo cala anche il Tris. Dopo una splendida combinazione tra Adauovo e Mottini, quest'ultimo non si lascia sfuggire l'occasione di finire sul tabellino dei marcatori. Prima del triplice fischio Marfisi aziona il suo estro per il taglio alle spalle di Scurti che non arriva all'appuntamento con il pallone. Il Sambuceto si arrende all'arenato Curi Angolana che strappa i primi applausi al Petruzzi di Città Sant'Angelo. Mister Contini, possiamo dire che la partita si è girata probabilmente con il rigore sbagliato perché quel 2-2 sarebbe stato importantissimo per voi. Dopo un buon secondo tempo in cui sull'1-1 stavate facendo vedere qualcosa di più. Sì, sono d'accordo. A mio avviso abbiamo regalato il primo tempo perché abbiamo giocato sotto ritmo e non ci abbiamo messo quella voglia e cattiveria che avevo chiesto ai ragazzi. Il secondo tempo siamo ripartiti molto bene, secondo me stavamo dominando la partita al secondo tempo. Nel nostro miglior momento purtroppo abbiamo preso il gol del 2-1 e da lì non abbiamo avuto più la forza di reagire tranne che per il rigore. Però i rigori si possono anche sbagliare. Secondo lei dove può migliorare la sua squadra? È un fatto di testa oppure c'è qualcosa anche a livello tattico che si può migliorare? A livello di testa sicuramente adesso dovremo migliorare perché veniamo da due sconfitte consecutive quindi i risultati aiutano a sbloccare la testa. A livello tattico la squadra si adopera per fare diversi moduli ed è aperta a tutto. Adesso stiamo anche vedendo di trovare qualche giocatore per andare ad allungare la rosa. Speriamo di trovarli al più presto in modo che ci vengano anche a dare una mano. Abbiamo visto Iaroci sofferente. Come sta il ragazzo? Il ragazzo è uscito, vedremo martedì, ha preso una bella botta. Sembra che ha un problema alla caviglia, lo valuteremo in settimana e vediamo il da farsi. Mister Rakeni, l'angolana fa, disfa e poi i cambi risolvono questa partita? Sì, abbiamo fatto un'ottima partita. Siamo passati in vantaggio senza rischiare quasi nulla. Purtroppo nel calcio succedono che si commettono degli errori individuali e le partite rimengono messe in discussione. Dopo l'1-1 la squadra si è rimessa a giocare, abbiamo avuto subito la palla per fare il 2-1 e siamo passati, secondo me, meritatamente in vantaggio. Poi c'è stato un altro errore individuale, ripeto, perché sono infortuni che capitano, però poi è stato molto bravo il portiere. Poi abbiamo avuto anche la palla del 3-1. Secondo me è il risultato che non fa una grinza, nonostante i mille problemi che avevamo. Sono contento perché poi chiudere la partita con 7-8 fuori quota, di cui 5-2004 per me è un motivo di orgoglio e penso anche per la società, perché comunque l'angolana è una società che ha puntato sempre sui giovani. Ovviamente questi giovani devono essere supportati da quelli più esperti e oggi i più esperti hanno fatto veramente una partita eccezionale.